L'ultimo in ordine di tempo nell'Aretino è stato il giovanissimo meccanico Manuel Cavanna, 23 anni, originario delle Chianacce nel Cortonese, morto sul lavoro a Montepulciano. Ma quello in corso è stato indubbiamente un anno nero sotto il profilo delle morti bianche in Toscana, basti pensare alla tragedia nel cantiere fiorentino di S. Lunga dove hanno perso la vita 5 operai. A livello nazionale i dati INAIL evidenziano invece un calo delle morti bianche nel 2023. I decessi sul lavoro denunciati al 31 dicembre sono stati 1.041, meno 4,5% rispetto ai 1.090 del 2022. Sul fronte delle denunce di infortunio anche qui un calo più importante ma dovuto quasi esclusivamente alla scomparsa delle statistiche degli infortuni connessi al Covid. Le denunce di infortunio presentate all'INAIL tra gennaio e dicembre 2023 sono state quasi 600.000 in calo rispetto alle quasi 700.000 dello stesso periodo, pari a un meno 16,1%. C'è un dato su tutti però molto preoccupante, le denunce che riguardano gli under 20 studenti prevalentemente che registrano un aumento dell'11,7% da oltre 73.000 casi a oltre 82.000. Grazie 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 Grazie